Dietro la venditrice di castagne riusciamo a vedere un ascensore, questo ascensore bellissimo che vediamo dietro si chiama l'ascensore Santa Giusta e collega la parte bassa della città dove siamo noi al cole, quindi si sale con l'ascensore, si arriva a quella piattaforma che c'è su e dietro c'è anche un ponticino che ci collega la piazza che c'è su alla piazza del Carmo. Quindi effettivamente un mezzo di trasporto pubblico che però ha di solito una coda molto lunga, quindi vi insegno una piccola informazione che vi aiuterà. Dietro quell'ascensore c'è una stradina dove c'è un negozio di sughero e in quel negozio di sughero c'è un ascensore gratuito e senza coda per salire all'incirca 4 piani in su. Esserete alla parte di sopra sul cole senza necessità né di pagare 5 euro per quell'ascensore né di aspettare 30-40 minuti per prenderlo.